14 nomi su 3.755 esaminati in tutta Italia, 14 candidati che non avrebbero dovuto, secondo la commissione antimafia presieduta da Rossi Bindi, presentarsi alle prossime amministrative che hanno prodotto certificati falsi. E il fatto clamoroso è che la metà stanno tutti a battipaglia, il comune salernitano che domenica andrà alle urne e in altri due comuni campani, Trento la Ducenta e Villa di Briano, in provincia di Caserta. La black list è stata resa nota a Roma dopo lo screening sulle liste dei comuni ritenuti a rischio, ovvero quelli sciolti per infiltrazioni mafiose. Gli impresentabili sono tutti appartenenti a liste civiche, sono quelli senza il tagliando della legge Severino, candidati condannati, alcuni condannati anche più di una volta. Colpo durissimo sulla campagna elettorale di battipaglia dove sono 9 i candidati a sindaco, 32 liste elettorali, oltre 750 candidati al consiglio. Nel mirino Carmine Fasano di azione civica con Tozzi, professione macellaio. Daniela Minniti della lista battipaglia popolare con inverso, imprenditrice. Lucio Carrara della lista battipaglia cuore, candidato a sostegno di motta come il panettiere Francesco Procida della lista speranza per battipaglia e Bartolomeo Dapuzzo, carrozziere, sempre a sostegno di motta. Demetrio Landi, operaio invece, è candidato nella lista moderati per battipaglia, a sostegno di Lanaro, mentre il ristoratore Giuseppe Delpercio della lista La città che verrà perciotti sindaco sarebbe candidabile, ma se eletto potrebbe essere sospeso ai sensi della legge Severino. Più o meno la sorte che sarebbe toccata al governatore De Luca all'indomani della sua elezione quando la questione degli impresentabili è esplosa. De Luca, condannato in primo grado, è stato poi assolto dalla Corte d'Appello. Quella degli impresentabili non è solo una vicenda che riguarda il casellario giudiziario, ha sottolineato la Bindi, ma riguarda la politica e la sua capacità di selezione. Noi abbiamo trovato almeno otto persone che hanno autocertificato il falso ed abbiamo preso in esame un piccolissimo numero di comuni rispetto ai 1.400 che vanno al voto. Le prefetture che hanno fatto un'analisi sostanziale e non formale delle autocertificazioni hanno espulso questi candidati dalle liste, perché quando uno non si può candidare non può neanche prendere voti, perché droga in qualche modo è il risultato elettorale.